Le sue opere si trovano alle Nazioni Unite di New York, in Vaticano, al Trinity College di Dublino, a Rimini, ricordo di Federico Fellini, a Mosca davanti al Palazzo della Gioventù. Splendono alla luce, immensi gioielli che potrebbero provenire da uno scavo archeologico come precipitati da un'astronave. La grandezza di Arnaldo Pomodoro sta proprio in questo, nell'essere riuscito a creare una forma d'arte che travalica il tempo, fondendo, e mai termine fu più adatto, i simboli universali del linguaggio umano appartenenti alle civiltà arcaiche come quelle di un futuro altamente tecnologico. Mi dicono tutti, ma come fai a realizzare quella cosa là? Quando io glielo ho spiegato, e lo spiego anche a lei, siete tutti meravigliati, ma io quella cosa lì l'ottengo in negativo, cioè io ho una sfera ma è concava. Dove voglio che sia smangiata io metto la terra. Quella sfera che io ho fatto la prima non aveva quella interna ed era solo una sfera erosa. L'erosione ha fatto sì che gli dà un senso di drammaticità, che però si supera dal fatto che è tutto molto pulito e quindi è un'immagine che ti attira e è quello che voglio, perché l'opera deve essere guardata. Se l'opera non la guardi e passi vuol dire che non l'hai notata. Questa abilità nel manipolare la forma, trasformando lo spazio dove l'opera si trova in qualcosa di magnetico, di magico, di unico, è perfetta dove l'attenzione è la chiave per il successo di una rappresentazione, il palcoscenico. Arnaldo Pomodoro ha infatti firmato, rendendoli epocali, molti allestimenti teatrali per l'opera. Il suo lavoro è ora esposto a Torino, nel sontuoso Palazzo Reale, nella mostra gratuita e il teatro scolpito. Titolo omonimo di una pubblicazione molto ricca. Il libro è pensato per tutte le esperienze che ho fatto nel teatro. Quando penso a una scenografia è diverso che pensare a una opera scultorea. È sempre una scultura, però è più libera, cioè nella scenografia io posso abbandonarmi a qualche... non ho più quel rigore impegnato che quando faccio un'opera... perché sono giustificato, perché quando io faccio una scenografia anche se costruisco una stanza. La stanza la devo fare io, quindi divento architetto scultore, considero lo spazio. Sul teatro ci deve essere visionarietà. Troviamo le grandi ali mobili per gli uccelli di Aristofane, andato in scena a Milano nel 2002, nella casa circondariale di San Vittore, dove quelle ali significano anche fuga, libertà. I torsi scolpiti per Semiramide di Rossini, rappresentato nell'82 al teatro dell'Opera di Roma. I costumi d'oro dai richiami africani della tragedia di Didone, regina di Cartagine, di Christopher Marlow. Ecco le enormi conchiglie per l'Alceste, di Christopher Willibald Gluck, dell'87. Il grande portale per Edipus Rex, di Igor Stravinsky. E poi le soluzioni scenografiche in miniatura per ogni spettacolo, come il palcoscenico rotante, de'un ballo in maschera di Verdi, o le derive specchianti di Teneke, di Fabio Vacchi. Tutto è dorato, bronzeo, lucicante, spaziale, avveniristico, arcaico. Spicca la scelta di una materia che balugina, su cui ci si può specchiare, quando non ne rimaniamo abbagliati. Ah, io amo molto il bronzo. Se potessi fare uno di questi lavori in bronzo, guarda, farei gratis il lavoro, perché vederla in oro, pensa tutto l'oro che spendono questi personaggi, gli sceicchi, per esempio, che ne hanno tanto, fanno le maniglie, dicono che hanno i vassoi d'oro, pensa che meraviglia. Invece non mi è mai capitato, perché sai come fai a essere introdotto, c'è tutta gente che hanno ricchezze inaudite, mi dicono, no? Il teatro scolpito, Arnaldo Pomodoro, ingresso gratuito, a Palazzo Reale Torino, fino al 25 novembre.